buongiorno dal gusket buona domenica a tutti come ben sapete la situazione in italia in alcune zone molto brutta qua in piemonte tra le notizie dei dati sembra abbastanza stabile non come nelle altre regioni comunque quindi io credo che con questo sistema di blocco delle popolazione e limitazione dei movimenti del giro di 15 20 giorni si vedranno dei cambiamenti a livello di diffusione del virus perché se la gente non si sposta anche lui non si sposta praticamente no e non la possibilità di contagiare altri fa specie che comunque nell'ultimo mese l'italia come paese è stato bloccato un po da tutti all'estero è stato bloccato dei paesi nostri alleati europei è stato bloccato dagli americani è stato bloccato da un po da tutti i fatti voli navieri nel giro di 15 20 giorni ha fermato tutto con buona pace dei regolamenti di liberi frontiere libero scambio liberi popoli l'unico paese che questo momento da un aiuto concreto all'italia è per assurdo la cina è stato il primo paese che ha avuto i contagi adesso loro dopo una situazione molto brutta ma utilizzando dei metodi rigorosi e impopolari perché effettivamente no se questo è nero e nero se questo è bianco e bianco e lì c'era la legge marziale però facendo così il contagio sembra che l'abbiano fermato non l'hanno debellato ma l'ha fermato e lo sta controllando bene e hanno e si sono fatte esperienze sul campo appunto per combattere questa malattia anche a livello comunque di medicinali di infrastrutture anche di metodo per poter curare la gente e la cina probabilmente perché noi italiani come al solito siamo magari dei qua 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 a livello generale però come cultura come modo di atteggiarsi rispetto all'altro se vogliamo ci sappiamo far voler bene quindi noi con tutta quella campagna no abbraccia il cinese alla fine poi è stata un po un'esagerazione perché poi ha portato all'aumento dei casi in italia no perché è ovvio che se tu favorisci l'ingresso di una popolazione che in quel momento è potenziale trasportatore del virus che purtroppo è nato la cioè non è fatto che erano cinesi se erano indiani erano indiani non cambiava niente ma non abbiamo preso le conto misure necessarie rigide perché poi c'è anche da dire una cosa che i cinesi loro nei nostri confronti ci sono subito bloccati hanno cercato di limitare gli ingressi chi era la italiano non è potuto arrivare subito in italia ne hanno bloccati tutti che sia cinesi che siano italiani che siano americani cioè loro non ha fatto per razzismo non ha fatto per sicurezza noi qua con i nostri politici tra virgolette ignoranti e anche con poco livello culturale per paura di essere presi non lo so io anche per ignoranza e no ma non possiamo i poveri cinesi come facciamo quale va bene trattare bene la gente trattarla con rispetto ok ci sta ci mancherebbe ancora ma da quell'altro lì non dovrà mancare rispetto nei loro confronti però bisogna fare delle regole ferrere tanto sono abituati non è che li mandavi li arrestavi bastava bloccarli per il tempo necessario e fai i controlli non puoi venire dire ma come facciamo i bambini a scuola cinesi vengono che poi non si capisce quanti bambini cinesi erano andati in cina avanti indietro secondo me pochissimi però anche fossero andati quasi tutti trovare i parenti quelli che tornavano di bloccavi per una settimana a casa con i genitori dicendo guarda venite da un posto che purtroppo c'è questo problema benissimo non è per razzismo gli facevi le lezioni a casa tanto saranno un miliardo di cinesi in italia e cominciare a tenermi fermi gli facevi le dovute i dovuti controlli poi se risultavano negativi e posto di rintegravi subito tanto non c'erano niente c'erano niente invece no hanno fatto tutto contrario comunque morale della favola visto che noi nei confronti della cina abbiamo dei buoni rapporti commerciali anche a fronte del fatto che avevano firmato la via della seta probabilmente con questo sistema di di collaborazione internazionale adesso noi nonostante i paesi nostri i primi alleati i primi diciamo come si dice colleghi europei che hanno bloccato tutto francesi tedeschi in primis abbiamo aiuti dalla cina quindi complimenti ai cinesi complimenti al loro sistema industriale a livello di organizzazione non è un elogio il fatto che producono tanto eccetera perché loro hanno i loro errori fanno delle schifezze laggiù che fa paura però a livello mentale come costruzione loro sono più avanti di noi sono in grado nel giro di qualche giorno cambiare e cambiare sistema e indirizzarsi verso verso variazioni della loro produzione e quindi riescono a far fronte ai vari problemi molto più rapidamente con meno diciamo con meno dogmi ma invece quali per cambiare un affare bisogna vedere c'è c'è il prefetto non il prefetto il dottore professore alla fine per una settimana per quelle cose lì loro hanno bisogno di mascherine prendono la fabbrica la modificano e produce mascherine prima faceva magari i motori adesso fa mascherine nel giro di qualche giorno e quella una cosa vantaggio a livello organizzativo comunque tornando i cinesi devo dire che faccio i complimenti al governo cinese con tutti i suoi limiti difetti che può avere perché l'unico che con coraggio e con onestà sta dando la mano ai paesi in difficoltà perché l'italia in questo momento è un paese in difficoltà in alcune zone d'italia effettivamente c'è dei problemi gravi a livello organizzativo e di risoluzione del problema quindi loro nonostante i loro grossi problemi laggiù sta mandando materiali e anche squadre di persone adatte per poter risolvere il problema o perlomeno dare una mano perché hanno accumulato più esperienza rispetto a noi e così trasmettono la loro esperienza ai nostri specialisti e poi vediamo comunque effettivamente la cina sta dimostrando di essere a livello umano culturale e politico superiore a tutti i paesi presunti democratici occidentali evoluti che praticamente amano il resto del mondo cercano di collaborare l'europa dimostra esattamente il contrario della cina ciao